Siamo con Mara Karam, il presidente di AST, associazione di preganziol che sta organizzando un particolare evento il 6 giugno. Buongiorno a tutti, sì, questo evento si chiama Phil Rouge ed è proprio il primo evento che noi dell'AST come commercianti abbiamo pensato di creare e quindi progettare per dare proprio un rilancio, uno sprint di rilancio al territorio e quindi anche alle nostre attività che per noi è molto importante appunto che il commercio, l'economia, le piccole imprese abbiano una sinergia proprio con tutto il territorio. Si chiama Phil Rouge proprio perché è un filo virtuale rosso, conduttore praticamente di collegare anche le nostre frazioni. Demograficamente il nostro territorio è un po' arcipelago, così noi abbiamo voluto renderlo proprio un filo unico, quindi prendendo anche Frescada, Santrovaso e San Bouguet e quindi Preganziol naturalmente che è il capoluogo. Ci saranno diverse band che suonano appunto in diversi locali e ci sarà l'animazione per i bambini che per noi è fondamentale perché i bambini per noi sono il futuro del nostro paese e quindi anche le famiglie stesse. Quindi ci sarà il trampoliere, la trucca bimbi, ci sarà l'agility dog in piazza Gambino e lì così riusciamo anche a far uscire anche tutte le famiglie che comunque hanno degli animali, che qui a Preganziol trovo che la cultura per gli animali sia molto molto sensibile. Poi c'è una mostra di quadri, ci sarà la sfilata appunto in piazza Gabin con un DJ in diverse piazze e poi ci sono appunto le band. Proporrete anche un trenino. Il trenino sì, è un collegamento nel paese e quindi partirà dalla biblioteca e farà diverse fermate e è un trenino non solo per i piccoli ma anche per i grandi. E poi bar aperti fino alla chiusura dell'evento ci saranno anche dei particolari laboratori. Infatti con questo si vuole anche esatto portare fuori la nostra attività e portare fuori il nostro negozio, la nostra creatività e poter così anche far vedere a tutti quanti le capacità che abbiamo, le nostre idee e quindi portare anche secondo me, visto che siamo delle imprese piccole, anche proprio quel rapporto umano, quella sinergia che appunto c'è con loro che non è virtuale ma è proprio il contatto stesso che abbiamo. Tra l'altro è una sfida anche con noi stessi perché è un evento che comunque avrebbe dovuto avere una capacità di organizzazione quasi di sei mesi e noi in un mese ce l'abbiamo fatta. Quindi è una sfida veramente. Ci ha aiutato anche naturalmente l'amministrazione comunale perché ci ha aperto le porte e quindi ci ha reso possibile tantissime cose però anche noi ci siamo messi in gioco con la voglia di fare, di collaborare solidali e anche aiutarci proprio l'uno con l'altro a creare appunto questo evento. Se Mara Caramel dovesse invitare qualcuno che ci sta guardando a venire a Preganziolo cosa gli direbbe? Cosa dire? Di seguire il filo rosso e quindi venirci a trovare, vi aspettiamo, ci sarà da divertirsi, ci sarà da stare assieme e ci sarà da riscoprire Preganziolo in una veste nuova sicuramente. Vi aspettiamo il 6 giugno dalle ore 6 a mezzanotte.